Hertz ha tradizionato praticamente ciò che Maxwell ha detto. Le valli elettromagnetiche possono portare informazioni da un punto a un altro punto. Hertz ha conosciuto che tutte le valli hanno alcune caratteristiche in comune. Le valli propagandano, possono perdere l'energia e essere riflettute. Queste caratteristiche sono le ragazze per cui le valli possono essere usate per una varietà di proposti, come locare, immagare, mappare e molto più. Hertz ha studiato le valli elettromagnetiche, ma cosa sulle valli gravitazionali? Le valli gravitazionali erano un concetto particolare elaborato da Albert Einstein. Un'errore propaga in tutte le direzioni, da un punto di origine. Le valli di superficie, come le valli di acqua, propagandano in un circolo per una superficie. Le valli propagandano in tutte le direzioni speciali. Un'errore propaga in tutte le direzioni. Se si incontrano un obiettivo, si incontrano le valli. Un'errore propaga in tutte le direzioni. Un'errore propaga in tutte le valli ha una frequenza particolare. Un'errore propaga in tutte le valli. Un'errore propaga in tutte le valli. Un'errore propaga in tutte le valli. E cosa sull'inferimento dispersione? Le componenti di frequenza di una valli differono non solo nelle loro frequenze, ma anche nel loro comportamento. Dispersione. Questo significa che sono riflessi diversamente quando si passano in un altro materiale. E questo è come la luce bianca è spiegata in colori del rai. e anche daydreamble. Grazie a tutti.